Berlino, 23 settembre 2017, sono 61 e 5 milioni i tedeschi che domani mattina, dalle 8 alle 18, si recheranno alle urne per scegliere il nuovo Bundestag, la Camera Bassa, e se l'esito delle elezioni in Germania, appare scontato con la riconferma. Per il quarto mandato, della cancelliere Angela Merkel, al potere dal 2005, resta il rebus della coalizione, che giuderà il Paese considerando che nessun sondaggio dà la maggioranza assoluta a nessuno dei partiti in gara. E' proprio l'ultimo sondaggio dell'Ins da increscita alternative für Deutschland, il partito euroscettico e anti-immigrazione guidato da Alexander Gauland e Alice Weidel. Secondo le ultime rilevazioni, l'AFD sarebbe al 13%, terzo partito tedesco dopo l'Union, CDU e CSU, della Merkel, data invece in forte calo e attestata al 34%, e l'SPD di Martin Schulz al 21%. A seguire di Eilinke all'11%, i Liberali dell'FDP al 9%, e i Verdi all'8%. Se i dati fossero confermati la formazione di Frau Angela avrebbe perso più del 7% rispetto alle elezioni del 2013. Stando invece al sondaggio i MNID di William Sontag, in una elezione diretta Angela Merkel avrebbe soltanto il 45% dei consensi, e Martin Schulz il 32%. Nelle ultime settimane lo scarto si è ridotto da 29 a 13 punti. Quattro settimane fa, infatti, i due candidati erano premiati rispettivamente dal 51% e dal 22% dei consensi. Nell'ultimo comizio, tenuto a Monaco, la Merkel è stata fischiata? La cancelliera non ha nascosto un profondo dissenso nel volto per una protesta alimentata probabilmente, come nei giorni scorsi, dai populisti di AFD.